Il presidente statunitense Donald Trump continua con i suoi discorsi politicamente scorretti. Parlando nel Maryland, ad un meeting di attivisti conservatori, il capo della Casa Bianca ha riaffermato la sua dottrina in materia di migrazioni. Per farsi capire meglio, ha raccontato una storiella. Guardate cos'è accaduto in Francia. Un mio amico, una persona in gamba, innamorato della Villumière, innamorato di Parigi, L'ho rivisto dopo un certo tempo e gli ho chiesto, Jim, come va a Parigi? Lui mi ha risposto, Parigi, non ci vado più a Parigi, ormai non è più la stessa. L'uscita di Trump ha sollevato reazioni polemiche, specialmente in Francia, tra i primi a rispondere la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che su un social network ha ricordato a Trump che la capitale francese resta una delle mete più attrattive. Anche il ministro degli esteri francese, Jean-Marc Ayrault, ha scelto una linea diplomatica, ricordando che nel 2016 3 milioni e mezzo di turisti statunitensi hanno visitato la Francia, essendo sempre i benvenuti.